Un nucleo si divide e due sono le mite e quattro e otto ancora in giusta professione. Processo di magia, processo forse cieco o forse illuminato da memoria senza passato. Un nucleo si divide, l'errore lo interrompe e dentro al mecanismo pero che si chiama caso. Un nucleo si divide.